buongiorno allora oggi faremo un risotto con pomodoro mettiamo a soffriggere aglio cipolla sedo la carota mettiamo un po d'olio d'oliva olio extravergine poi aggiungiamo anche un po di pepe mettiamo anche un po di sale e facciamo soffriggere poi mettiamo i nostri pomodori e per ultimo mettiamo un po di prezzemolo ecco questa è la nostra ricetta di oggi risotto con pomodori allora abbiamo fatto cucinare un po il pomodoro abbiamo aggiunto il riso e anche il brodo il brodo che abbiamo fatto adesso facciamo facciamo cucinare il riso piano piano a fuoco medio ogni tanto diamo una girata fin quando il riso sarà pronto poi alla fine metteremo una noce di burro e poi lo serviremo con del parmigiano la nostra ricetta è finita e seguiteci su sul gruppo facebook ricette nazionale internazionale con video e ricette con del parmigiano la nostra ricetta